o rimarrà anche in magistratura? Non posso rimanere in magistratura essendo leader politico a tempo pieno ovviamente. Io sono stato il fondatore di Azione Civile, che ho fondato quando ero ancora in aspettativa per regioni elettorali. Oggi da fondatore e diciamo così in questa veste di portavoce del coordinamento nazionale che abbiamo costituito lancio la campagna di adesione, dopodiché faccio un passo indietro in attesa della decisione definitiva del TAR e del CSM e dopo la decisione del TAR e del CSM magari convocherò una nuova conferenza stampa per dire il destino del dottor Ingrovi.